Oroscopo del giorno, martedì 28 luglio 2020 Ariete Amore, sembra che ancora le emozioni non vi travolgano completamente. Bisognerà probabilmente aspettare tempi migliori per godere appieno dei sentimenti insieme al partner. Dovrete cercare di non affrettare le cose. Lavoro Oggi sarete particolarmente tolleranti e pazienti. È il giorno giusto per impegnarsi senza troppi problemi. Toro Amore Per questo martedì di luglio aspettatevi delle novità se state attraversando un periodo difficile in coppia. Oggi infatti sarete bravi a parlare, a discutere e quindi anche a chiarire. Un giorno che vi servirà. Lavoro Vorrete avvicinarvi a vicende e situazioni che forse sembrano ancora lontane. Gemelli Amore Se siete impegnati in una storia d'amore potrete sperare in una giornata stabile ed equilibrata. Se al contrario non state passando un periodo semplice insieme al partner potrete trovare un punto di accordo, di conciliazione. Lavoro In questa giornata potrebbero arrivare nuove interessanti occasioni e voi riuscirete ad approfittarne. Cancro Amore Questa giornata sarà molto bella per voi nati sotto questo segno. L'umore sarà ottimo e sentimenti saranno tutti da vivere insieme a chi amate davvero. Le emozioni saranno sempre reali, mai gonfiate o false. Lavoro Sarete originali ma pure molto seri e concentrati. L'equilibrio sarà perfetto, mai un cenno di esagerazione. Leone Amore È il momento giusto per mettere in chiaro le cose, ma per rivolgere le attenzioni pure alla vostra persona. Vorreste sempre provare emozioni forti e speciali. Delle volte però è meglio fare una pausa. Lavoro Per oggi non sono previste troppe novità. Avreste bisogno di pensare per un attimo ad altro, ma sarete capaci di impegnarvi. Vergine Amore Chi è impegnato in un rapporto di coppia oggi vivrà una giornata decisamente positiva. Riuscirete a dimostrare al meglio il vostro amore al partner e aprirvi con chi vi ama risulterà molto semplice. Lavoro Non mancherà un bel tocco di originalità nelle vostre idee, nei vostri progetti. Dovrete cercare di restare comunque con i piedi per terra. Bilancia Amore Sul fronte amoroso non dovrebbero esserci dei cambiamenti drastici, ma sicuramente l'umore e la determinazione di oggi influenzerà alcune situazioni. È il momento di fare chiarezza, ma non solo con chi sta al vostro fianco. Lavoro Sarete in grado di affrontare occasioni, compiti e sfide importanti e lo farete in maniera fantastica. L'impegno sarà comunque fondamentale. Scorpione Amore La luna sarà nel segno e vi aiuterà ad esprimere in modo chiaro sensazioni e sentimenti. È infatti il momento di mettere da parte timori e preoccupazioni per lasciare spazio a quello che suggeriscono il cuore e l'istinto. Lavoro Mai illudersi e mai esagerare. In questo martedì metterete in pratica la vostra creatività. Sagittario Amore Le energie di questa giornata saranno importanti e le emozioni non mancheranno di certo. Questo è il giorno perfetto per lasciarsi andare in amore, per fidarsi senza più dubbi e godere dei sentimenti in maniera sincera e leggera insieme al proprio partner. Lavoro La forza ci sarà pure in ambito professionale, anche se non ci saranno grandi novità. Forse siete troppo concentrati sull'amore. Capricorno Amore Le stelle di oggi vi aiuteranno ad aprirvi con chi vi sta accanto. Questo significa che vi fiderete ciecamente del partner, affidando pensieri e preoccupazioni. Aspettatevi un giorno intenso per i sentimenti. La complicità aumenterà. Lavoro Probabilmente i timori che confiderete al partner riguarderanno proprio la sfera professionale. Attenzione Acquario Amore La cosa che dovrete fare oggi è ascoltare il vostro cuore, le vostre sensazioni. Dovrete evitare di pensare troppo. Sarà meglio agire distinto ed essere più liberi per sentirvi veramente bene prima di tutto con voi stessi. Lavoro Quante idee per questo lungo martedì estivo. I cambiamenti lavorativi non sono da escludere. Pesci Amore La giornata sarà semplice da affrontare per chi ha qualcuno di importante al proprio fianco. Le emozioni saranno forti ed intense. Vi dedicherete davvero tanto al vostro partner e questo farà bene al rapporto di coppia. Lavoro Le energie di oggi saranno buone e vi sentirete finalmente a vostro agio con le situazioni. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie